Giuseppe Cruciani dice che il reddito di cittadinanza è una legge maledetta. Sì, 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 io se la fino Massoni, ipotesi non fingo. Tutti sanno chi è Giuseppe Cruciani, Giuseppe Cruciani è un potentissimo giornalista, tutti parlano di Giuseppe Cruciani, invece pochi sono coloro che conoscono Serafino Massoni, per cui Serafino Massoni si deve presentare, eccolo qua Serafino Massoni, qua c'è una nota bio bibliografica relativa a Serafino Massoni, Serafino Massoni sono io che vi sto parlando, ecco qua, Serafino Massoni è nato nel 1940, anzi per la precisione Serafino Massoni è nato ai primi del mese di febbraio 1940, per cui tra poche settimane Serafino Massoni e compirà la bellezza di 83 anni. Qua sono elencati alcuni dei libri scritti da Serafino Massoni, c'è anche un libro pubblicato all'oltre in lingua inglese, vedete? The Art of the Rosemann e qua c'è la Stella di David, Stella di David. E questo è l'ultimo romanzo di Serafino Massoni, capito? Giuseppe Cruciani, caro Giuseppe Cruciani, ma perché dici che è una legge maledetta? Ma per quale motivo? Eh? Per quale motivo è una legge maledetta? Per quale motivo? Per quale motivo? Eh? Il reggito di cittadinanza si basa sulla carta costituzionale, tu la conosci la carta costituzionale Giuseppe Cruciani o te la devo insegnare io la carta costituzionale? Lo sai che io non sono stato solo professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, io ho vinto un difficilissimo pubblico concorso e sono diventato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici, sono stato preside del liceo classico e scientifico Galileo Galilei a Ostiglia, provincia di Mantua, poi sono stato preside del liceo classico e scientifico Francesco Gonzaga a Castiglione delle Stiviere, Castiglione delle Stiviere è una ridente cittadina che sta nei pressi del lago di Garda, conservano tutti un ottimo ricordo del preside Serafino Massoni. E per diventare preside, per fare il preside devi conoscere il diritto pubblico, il diritto amministrativo e il diritto costituzionale, se no non puoi farlo il preside. Beh, c'è l'articolo 3, c'è l'articolo 3 Giuseppe Cruciani e il secondo comma dell'articolo 3 dice è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico che impediscono la piena realizzazione della dignità umana. perché venisse attuato il secondo comma dell'articolo 3 della carta costituzionale abbiamo dovuto aspettare che nascesse il movimento pentastellato. Lo sai? Giuseppe Cruciani quando è nato il movimento pentastellato è nato nel 2009 fu proprio nel 2009 Giuseppe Cruciani che venne pubblicato un pamflet un opuscolo polemico, pamflet vuol dire opuscolo polemico, un pamflet intitolato chi ha paura di Beppe Grillo, punto di domanda, proprio così un pamflet, appare nel 2009 un pamflet, cioè un opuscolo polemico appare nelle librerie intitolato chi ha paura di Beppe Grillo, punto di domanda lo sai che, lo sai di chi era la postfazione di questo libro, di questo opuscolo lo sai di chi era la postfazione o non lo sai, oltre lo dice Serafino Massoni Serafino Massoni è questo qua la postfazione fu scritta da Marco Pannella a te piaceva o non piaceva Marco Pannella? Giuseppe Cruciani, ti piaceva o non ti piaceva? con Marco Pannella c'era poco da scherzare, eh Giuseppe Cruciani? pensa un po' a te, per cui i pentastellati, anche i grillini in un certo senso sono gli eredi di Marco Pannella Marco Pannella per la trasparenza Marco Pannella per la trasparenza, si deve essere trasparenti si deve essere, lo sai che io sono trasparente? lo sai che sono molto trasparenti Giuseppe Cruciani? lo sai Giuseppe Cruciani che questa è la mia ultima opera? è un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo eh, te ne intendi di storia Giuseppe Cruciani lo sai che io ho insegnato filosofia e storia nei dicei classici scientifici e dopo, e dopo aver superato un difficilissimo pubblico concorso sono diventato preside di ruolo sempre nei dicei classici scientifici ho scritto tanti libri ai Giuseppe Cruciani e questa è soltanto l'ultima opera guarda la casa editrice, guarda che potente casa editrice lo sai che questa casa editrice è distribuita in tutte le librerie dalle messaggerie libri vuoi andare tu in libreria Giuseppe Cruciani a comprare una copia? ma guarda Giuseppe Cruciani che se io, 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 io te voglio bene Giuseppe Cruciani sai che voglio bene, io sono un uomo buono se tu Giuseppe Cruciani mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale io, Serafino Massoni, a mie complete spese ti farò pervenire una copia autografata di questa mia ultima opera la comita dell'imperatore anche qua si parla delle cruciate si parla di Gengis Khan liberano sdomine a furore tartarorum si parla delle grandi eresie soprattutto dell'eresia cataro-albigese se tu sapessi quanto ti farebbe bene Giuseppe Cruciani la lettura di questo romanzo storico sai Giuseppe Cruciani è stato scritto da Serafino Massoni sai Giuseppe Cruciani ecco qua chi è Serafino Massoni va bene Giuseppe Cruciani caro ma perché devi definire la legge che sta alla base del reddito di cittadinanza una legge maledetta ma chi sei tu? ma chi sei tu? ma chi sei per dire legge maledetta? ma perché non pensi all'evasione fiscale agli evasori fiscali va bene non pensare al reddito di cittadinanza ma pensa all'evasione fiscale che c'è in Italia ma combatti per qualcosa che valga di più capito? capito? Giuseppe Cruciani non perdere tempo Giuseppe Cruciani vai subito in libreria vai subito in libreria procurati subito una copia della cometa dell'imperatore poi ripeto qua pubblicamente caso mai tu mi volessi far pervenire il tuo preciso recapito postale io Serafino Massoni e lo dico qua pubblicamente lo dico qua pubblicamente io a mia copia di spese Giuseppe Cruciani ti farò pervenire una copia autografata della cometa dell'imperatore a te Giuseppe Cruciani e a tutti voi tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore grazie a tutti grazie a tutti